11 febbraio 1858. In un piccolo paese nel sud della Francia, Lourdes, la giovane contadina Bernadette Subiru incontra per la prima volta ai margini del fiume Gave la bella signora. La Madonna appare a Bernadette 18 volte in 5 mesi e da allora la cittadina francese è stata meta di centinaia di migliaia di pellegrinaggi. Entrando nella Basilica Superiore di Lourdes si legge la dichiarazione solenne del Vescovo Monsignor Laurence. Riteniamo che Maria Immacolata, madre di Dio, è realmente apparsa a Bernadette Subiru e che questa apparizione riveste tutti i caratteri della verità e che i fedeli hanno ragioni fondate a crederla certa. Il giorno è la storia Grazie a tutti. Grazie a tutti.